Buongiorno, buon inizio di settimana da Giuseppe Recca, oggi è lunedì 29 gennaio. Continuano le proteste del mondo agricolo. Quasi 50 trattori degli agricoltori della Valle del Belice e dell'Oiato ieri pomeriggio hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta si è spostata vicino al centro commerciale Belicità dove mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere. Insieme agli agricoltori c'erano i sindaci di Castelvetrano, Enzo Alfano, di Partanna, Francesco Livigni, di Sala Paruta, Vincenzo Drago e di Santa Margherita Belice, Gaspare Viola. Incidente mortale sulla provinciale Palazzolo Solarino nel Siracusano. La vittima è Salvatore Emanuele, 35 anni di Solarino, alla guida di una moto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'impatto è avvenuto tra due moto per causa ancora da accertare e l'altro conducente è rimasto gravamente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l'elesoccorso. Margherita Laroccaruvolo, sindaco di Montevago e deputato Ars, è stata eletta per acclamazione coordinatrice provinciale di Forza Italia. L'elezione è avvenuta a margine del congresso provinciale che si è svolto ieri ad Agrigento, preseduto dalla deputata nazionale di Forza Italia Erika Mazzetti. Confronto sul turismo nel versante occidentale della provincia di Agrigento, mercoledì 31 gennaio prossimo a Sciacca, presso l'hotel Cala Regina, uno degli alberghi del complesso turistico di Sciacca Mare. L'iniziativa si intitola Turismo tra terra e mare ed è organizzata dal quotidiano La Sicilia. In collaborazione con Confcommercio Agrigento e i comuni di Sciacca e Ribera si confronteranno istituzioni locali e regionali, operatori turistici del territorio, rappresentanti del mondo delle associazioni. Calcio, la lotta al vertice dal campionato di eccellenza si riapre. Ieri il big match della diciannovesima giornata, giocato a Caltanissetta, è stato vinto dal Profavara per 2-1. Adesso i punti di distacco tra la capolista Nisse e il Profavara si sono ridotti a 3. Nell'anticipo di sabato lo Sciacca ha vinto con una buona prestazione in trasferta sul campo dell'Atletic Palermo. Le reti neroverde di Baldea, Ferotti e Seikan. Palla a volo, volle club Sciacca ha sconfitto 3-7-1 nella finale di Coppa Sicilia. La partita ha giocato al Palazzetto dello Sport di Ragalna. È stata vinta dal Volley, Valle e Catania, capolista del girone B di Serie C. I parziali 22-25, 25-23, 20-25, 25-20 e 15-12. Match combattuto in tutti i setti. I ragazzi di Enzo Grofeo sono comunque riusciti a fornire una ottima prestazione. Migliore in campo il sacenze Andrea Roccazzella. Carate Irene Marturano, 18enne portacolore della Ippon Carate Lentini di Sciacca, insieme al tecnico Marco Lentini. Sono stati convocati per campionati europei giovanili di karate che si terranno dal 9 all'11 febbraio in Georgia a Tbilisi. È tutto per questa mattina, grazie, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.